No, no, è sempre bello lavorare con i giovani, quindi questo mi rilassa molto e poi lavorare con i giovani è un po' la molla che mi consente di andare avanti nel mio lavoro, perché poi tendo a innovare tutte le modalità lavorative o le aziende in cui mi trovo, quindi la spinta dei giovani su questo tipo di attività è fondamentale. Il mondo del lavoro sta cambiando, chiaramente questo non è un fenomeno che attraversa tutte le aziende, ma le aziende più modernamente organizzate stanno stravolgendo questa modalità di lavoro, nel senso che oggi si sta andando verso sistemi agili di lavoro che prevedono una serie di eventi e di modalità di sviluppo delle cose totalmente diverse. Vi faccio un esempio, nel passato quando si progettava un software o un processo si partiva dall'ANA, prima si analizzava, poi si disegnava, poi il disegno veniva trasferito a chi doveva fare determinate attività e poi il prodotto di questa attività di realizzazione veniva restituito. Veniva restituito e probabilmente rispetto a ciò che era stato disegnato e pensato era qualcosa che non corrispondeva al 100%. Oggi invece si sta lavorando con progetto, realizzo e testo contemporaneamente. Quindi se proprio si sta cambiando la logica del lavoro, quindi se io devo fare qualcosa non aspetto il compimento di tutto il processo di ideazione e realizzazione, ma vado in continuo e quindi riesco a rilasciare molto più velocemente dei pezzi di attività, che se non avrei dovuto aspettare la fine del progetto, soprattutto posso continuamente correggere con un processo di iterazioni successive quello che sto facendo e realizzare molto più velocemente quello che ho in mente. Soprattutto introducendo due concetti fondamentali che sono lo scambio generazionale che dicevamo prima, e quindi costringere tra virgolette a far lavorare giovani e meno giovani sulle stesse cose, quindi ognuno mette a disposizione la sua intelligenza rispetto a questo e soprattutto poi sviluppando molto tutte le fasi di interdisciplinarità che caratterizzano oggi il mondo del lavoro. Noi stiamo passando da un mondo in cui c'era una spiccata specializzazione, cioè persone che si lavoravano in economia e commercio, facevano un simpatico master di ulteriore specializzazione, poi magari anche un altro, ed erano dei grandi specialisti in un determinato settore. Oggi quello che si sta cercando di creare, con queste modalità di lavoro, è delle figure manageriali nuove che siano caratterizzate da una grande interdisciplinarità, perché molte soluzioni, come accennavo prima, nelle aziende vengono da esperti non di quella materia, cioè non vi meravigliate di questo che vi dico, ma oramai credo il 70-80% delle soluzioni innovative che vengono individuate non sono frutto di grandi specialisti, ma sono frutti di un pensiero diverso su una problematica conosciuta. Non esiste più l'ufficio, non esiste più lo spazio in cui una persona si isola e pensa non so a cosa, quindi ci sono proprio diverse modalità di lavoro, molte più aggregative, e è interessante poi vedere che con questa modalità di lavoro i leader emergono naturalmente, cioè non sono individuati da valutazioni soggettive dei capi, il che è un grande vantaggio, perché è inutile dirlo, cioè ci sono persone che sono naturalmente leader, cioè hanno delle caratteristiche che altri non hanno e in questo contesto emergono, e quindi è anche una modalità di lavoro che premia molto di più la meritocrazia, cioè una meritocrazia che viene dal confronto e quindi da grandi soddisfazioni, anche perché un capo riconosciuto da tutti ha molta più facilità di gestione delle risorse, che poi è il più grande problema manageriale che abbiamo, gestire persone con caratteristiche e peculiarità totalmente diverse. Secondo me noi dobbiamo, cioè noi come più che punto di contatto, dobbiamo assorbire determinate esperienze che Giffoni sta facendo emergere, cioè Giffoni è un fenomeno che forse oggi riesce, molti riescono a comprendere, cioè è la dimostrazione che un'idea visionaria, cioè che dei giovani possono fare determinate attività, se lo confrontiamo al classico festival del cinema, è qualcosa di totalmente diverso, è la stessa cosa sta succedendo nelle aziende, ci sono aziende classicamente organizzate, che faranno bene il loro festival di Cannes, e ci sono aziende che andranno queste organizzazioni del tipo di Giffoni, che è profondamente diverso, sono aziende profondamente diverse, producono più o meno lo stesso prodotto, ma con caratteristiche totalmente diverse delle persone, quindi siamo più noi che prendiamo da Giffoni, Giffoni da noi. È indispensabile avere a disposizione, dico aziendalmente, delle persone giovani che abbiano voglia di realizzare quello che hanno in mente, e non dei talenti che sono stati definiti tali nel corso del periodo scolastico che ha caratterizzato la vita di ognuno di noi. La definizione di talento è la morte di una persona intelligente, perché un talento è definito come tale in base a degli standard particolari, perché è andato bene, perché... Poi c'è un'altra serie di persone invece che hanno determinate altre caratteristiche che non vengono apprezzate dalla scala di valori dei talenti che noi oggi abbiamo attualmente, e quindi questo sta cambiando tantissimo, la selezione delle persone all'interno delle aziende. Questo è il passo successivo, nel senso che probabilmente per fare determinate cose, per avere delle scelte illuminate, non mi serve uno specialista, o comunque mi servirà uno specialista, ma mi servono anche delle persone con caratteristiche diverse. Ma per Giovanni è indispensabile, cioè, andare a lavorare contento, nel senso che nel momento in cui non sarò più contento di... cioè se nel momento in cui devo andare a lavorare con una tristezza nel cuore mi metto a fare altro, perché nella mia vita ho fatto sempre così, quindi ho cambiato tante aziende, tanti lavori, io sono partito che facevo una cosa, cioè sono partito come esperto con master e oggi faccio una professione che è totalmente lontana dai miei studi, cioè sono laureato in economia e faccio il direttore di produzione di un'azienda che ha delle, poi tra le altre cose, dei business totalmente diversi e complicati, e quindi ho avuto modo di divertirmi e fare le cose che mi sono piaciute. Tutto questo è stato accompagnato da uno sforzo culturale grande, nel senso che ho percepito anche che la cultura universitaria che avevo era abbastanza insufficiente rispetto a quello che avrei voluto fare, e quindi ho dovuto studiare per fatti miei discipline, discipline adiacenti a quelle a me molto familiari, che però poi mi hanno dato una capacità e una volontà di fare determinate cose superiore rispetto al mondo numerologico da cui venivo. Noi veniamo da una cultura in cui, se vi ricordate, un imprenditore che falliva perdeva i diritti civili per cinque anni, perdere i diritti civili per cinque anni significa non poter votare, essere una nullità dal punto di vista dei cittadini. Invece il concetto di errore su cui stiamo lavorando è un concetto totalmente errato. L'errore è crescita. Se non c'è errore, non ci può essere crescita. Se non si sperimenta, non ci può essere crescita. Se voi pensate che noi a scuola siamo l'unica nazione in cui gli esercizi di matematica e fisica ci hanno il risultato. Questo significa che sta impedendo a chiunque di affrontare quella problematica in modo diverso da come è stata interpretata da chi ha scritto, non in modo errato, ma da chi ha scritto quel libro e ha trovato quella soluzione. Un problema fisico o un problema matematico può avere soluzioni diverse che portano a soluzioni diverse. Quindi è proprio un problema culturale. Cioè noi, a differenza degli anglosassoni e degli americani in particolare, non perché siano più intelligenti di noi, abbiamo un concetto di fallimento come un dramma. Cioè essere bocciato all'università piuttosto che prendere un voto basso per noi è un fallimento. Probabilmente determinate caratteristiche di quello che stiamo studiando non collimano con il nostro pensiero e quindi può essere che non riesci a performare al massimo. Quindi il concetto di errore è un concetto fondamentale su cui si sta lavorando molto, molto. E qui andrebbe proprio cambiato a livello anche universitario l'insegnamento e anche di liceo dell'errore. Cioè bisognerebbe cambiare la propria cultura. Anche perché se non ci fossero stati gli errori non ci sarebbe stato sviluppo del pensiero scientifico. Cioè la maggior parte delle scoperte sono state fatte per approssimazioni successive o per errori. Ma io vi auguro il meglio spero di avervi portato un contributo che è un contributo di persone che lavorano in azienda ormai da un po' di anni e la cosa importante è avere sempre chiaro qual è l'obiettivo e avere il coraggio di cambiare. Quando non ci si trova bene bisogna cambiare e andare da altre parti.